Salve a tutti, sono il dottor Vincenzo D'Amico e in questa puntata della nostra rubrica di odontoiatria ci occuperemo di chirurgia ortognatica. Con questo termine apparentemente complesso intendiamo la procedura chirurgica di competenza maxillofacciale che va a ridurre problemi fisici ed estetici dovuti allo sviluppo incongruo delle arcate. Per sviluppo incongruo delle arcate intendiamo pazienti che non avendo affrontato l'ortodonzia in tenera età hanno degli squilibri ossei tali per cui non è più possibile intervenire a livello odontoiatrico ortodontico quindi con i classici apparecchi ortodontici ma che hanno bisogno di uno spostamento delle ossa che può essere effettuato soltanto in sala operatoria. La competenza dell'odontoiatra è però quella di preparare il paziente. Ricordiamo che la bocca cerca sempre di trovare un suo equilibrio anche quando l'osso è apparentemente deformato. Facciamo il classico esempio della terza classe scheletrica. Per terza classe scheletrica intendiamo una persona che ha la mandibola iper sviluppata e che quindi ha uno sviluppo anomalo con una conseguente terza classe dentale quindi con i denti che non chiudono più in maniera fisiologica ma con un'inversione di morso. Avremo quindi i denti della mandibola anteriorizzati rispetto ai denti del macellare superiore. Questa patologia non è più possibile trattarla a livello ambulatoriale. Il dentista più precisamente l'ortodonzista ha il compito di modificare la posizione dei denti in preparazione della chirurgia quindi sarà nostro compito spostare i denti in previsione di ciò che verrà fatto. Gli interventi più comuni vengono definiti interventi di Leforte. Prendono il nome dal suo inventore. Il classico intervento è quello di riduzione della mandibola quindi a livello operatorio in anestesia totale viene fatta una resezione a blocco del ramo mandibolare di destra, una resezione al blocco del ramo mandibolare di sinistra, la mandibola viene posteriorizzata in modo da riprendere la posizione dentale che l'odontoiatra aveva opportunamente preparato in anticipo e bloccata con delle strutture di titanio, delle ferrule in titanio per 2-4 mesi. L'intervento è ovviamente molto invalidante poiché il paziente avrà la bocca serrata per lungo lungo tempo e quindi potrà alimentarsi soltanto con dei centrifugati, soltanto con dei frullati e la cosa più importante è che non riuscirà a mantenere una corretta igiene orale. Ecco che il compito fondamentale del dentista affiancato dalla dottoressa, dal dottore igienista è quello di mantenere il più possibile la corretta igiene orale del paziente nei suoi limiti poiché non potremo mai andare a pulire la parte interna se non aiutandoci con colluttori e scovolini. L'altro intervento di lezione che però questa volta riguarda il macellare superiore, quindi la protuberanza della parte superiore della macella rispetto alla mandibola è comunque definito intervento di Leforte e viene comunque affrontato in sala operatoria in anestesia totale. In questo caso è il macellare superiore ad essere totalmente staccato dai pilastri di sostegno strutturali del cranio e riposizionato in una condizione più adeguata. Nei casi più complessi l'operazione può avvenire contemporaneamente sulla struttura mandibolare e sulla struttura macellare superiore. Ecco che l'intervento avrà dei postumi ulteriormente complicati e un postoperatorio molto complesso e sarà importantissima l'igiene orale del paziente poiché ricordiamo che la tendenza a sviluppare carie e gengiviti o parodontiti con l'impossibilità di avere una corretta igiene orale è sicuramente altissima. L'igiene orale adeguata va comunque mantenuta anche in un normale paziente ortodontico quindi un normale ragazzo o adulto poiché le stelline, le classiche stelline o le altre metodiche che comunque si affiancano alle classiche tecnologie ortodontiche fanno da naturale ritenzione di cibo e di placca. È quindi importante evitare che il paziente dopo una terapia ortodontica si ritrovi, cosa che purtroppo succede spesso, con la bocca piena di carie. È tuttavia molto bassa la percentuale di pazienti che si rivolgono al distretto maxillofacciale per interventi di chirurgia ortognatica. Sono quei pazienti che hanno sicuramente una componente psicologica molto importante poiché il danno estetico di una malformazione mandibolare o macellare è molto elevato e quindi pazienti che non vivono più bene, non hanno un grosso rapporto con il loro specchio. E in secondo luogo pazienti che hanno delle disfunzioni, anche delle articolazioni molto importanti poiché ricordiamo che in natura l'estetica è strettamente correlata alla funzione. Un bel sorriso è un sorriso che funziona bene, quindi è una bocca che lavora bene, è un'articolazione che lavora bene ed è una struttura muscolare che non va in sofferenza neanche con un uso importante. Ovviamente il paziente deve essere preparato all'intervento, quindi deve essere consapevole di ciò a cui andrà incontro, consapevole dei mesi di guarigione forzata che gli procureranno problemi di fonazione, problemi di deglutizione e andrà poi incontro ad una grossa riabilitazione a livello fisioterapico dell'arcata che rimanendo in blocco per vari mesi sarà totalmente atrofizzata. Diciamo che il messaggio più importante è che la chirurgia ortognatica è veramente l'ultima spiaggia di quello che possiamo fare, poiché il 99% delle malformazioni del settore osseo della bocca può essere intercettato in tenera età con l'utilizzo di semplici apparecchi mobili, detti apparecchi intercettivi, che vanno a individuare il problema e convogliare lo sviluppo armonico del macellare e della mandibola verso una chiusura fisiologica. Per dovere di cronaca è giusto comunque avvisare il paziente che l'intervento non è esente da rischi. Ricordiamo che nelle zone di resezione troviamo comunque inevitabilmente delle strutture anatomiche e nervose. Quindi uno dei classici danni iatrogeni, e con danno iatrogeno intendiamo un danno dovuto all'intervento del medico, quindi un danno provocato durante l'intervento, è la mancanza di sensibilità del labbro inferiore. Quindi una possibile resezione del nervo mandibolare, un danno a carico del nervo mandibolare che è la struttura nervosa del trigemino, la terza branca del trigemino che decore lungo la mandibola fino al premolare e che quindi si trova nella zona in cui viene fatta la resezione a blocco della mandibola, ecco diciamo una resezione accidentale di questa branca nervosa è molto comune. Superiormente i danni sono molto molto meno importanti, però comunque una mancanza di sensibilità, una perdita di sensibilità del labbro superiore è sicuramente possibile. Detto questo mi sento di consigliare l'intervento a tutti coloro che hanno ormai l'impossibilità di procedere con un normale apparecchio ortodontico e che comunque hanno bisogno di risolvere il loro problema estetico e funzionale. Con questa breve e rapida carrellata sull'ortodonzia e sulla chirurgia ortognatica, io vi do un caro saluto e appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.